Oggi ho deciso di fare un'insalata di finocchi, sì ma calda, quindi il totale della cottura più o meno sono 20-25 minuti nel totale, quindi in padella uno spicchietto d'aglio con un goccino d'olio e la cipolla, mezza cipolla. Dopo averla fatta passire leggermente mettiamo dentro due finocchi tagliati a fette, ok? Questo è sempre sto ok, non c'è niente da fare, è la mia cadenza così, ok? Poi aggiungiamo due carote a julienne o una grande, ok? Ah, costo ok, vabbè, è così, è così, niente. Poi mettiamo del sale così si appassiscono le due verdure, si possono definire verdure, uno è un tubero, l'altro, vabbè, così si appassiscono le carote con i finocchi, mettiamo il sale e il pepe e poi mettiamo dell'aceto di mele, questo è un equivalente di mezzo bicchiere, anche perché a me piace molto l'aceto di mele, il sapore bello agro, sì, mi piace. Lasciamo sfumare un pochino e aggiungiamo poi della curcuma fresca e poi chiudiamo col coperchio, lasciamo cuocere per un quarto d'ora e dopodiché aggiungiamo gli altri due ingredienti, ma nel frattempo peliamo a vivo arancia e si dice così, ahimè, non so che dirvi, si dice così. Comunque peliamo l'arancia, la tagliamo a fettine e la disponiamo su un piatto dove poi adageremo anche la nostra insalata. Quindi vedete che ormai è tutto appassito perché è passato un quarto d'ora, quindi una manciatina di capperi di insalati e 6-7 olivette e l'insalata è pronta, spegniamo perché è già pronta. Ecco fatto, sì, lasciate almeno 5 minuti quando avete messo i capperi olive, giusto 5 minuti e questo è il risultato, quindi in totale è più o meno una mezz'oretta scarsa di cottura. Guardate un po' che bel piatto, goccino di olio sopra ed ecco fatto, un bel contorno gustoso e a me è piaciuto. Fatemi sapere se è piaciuta anche a voi l'idea della mia insalata di finocchi calda, ok? Ciao, alla prossima!